Ok, buonasera a tutti. Tante persone le conosco questa sera perché ci sono tante persone che stanno già partecipando a questa esperienza all'interno di questo progetto che si chiama Amalab. Amalab significa auto mutuo aiuto lavoro ed è un progetto che stiamo facendo con la provincia di Montsegrianzo e con tanti comuni della provincia con poi la cooperativa AERIS che è una cooperativa sociale, CGRC in the Will, ASFORI, CEPPE d'impiego ed è un progetto che ha l'obiettivo di sperimentare un nuovo intervento, un'iniziativa che ha l'obiettivo di in qualche modo aiutare le persone che hanno perso il lavoro, che non riescono a ricollocarsi, che sta in un posto di transizione, che sarebbe proprio il periodo tra un impiego e l'altro, molto a lungo e questo porta a perdere la speranza, a perdere la fiducia, a sentirsi in colpa, a sentirsi fuori luogo in qualche modo, a avere una collocazione sociale.